Una delle più brutte WL dell'anno perde uno degli scontri diretti più importanti. Alla Vitrifrigo Arena, Trento vince senza troppa fatica con un perentorio 70-84 e mette a serio repentaglio il piazzamento play-off dei Biancorossi, spingendo la Carpegna Prosciutto Basket fuori dalle prime otto, seppur appaiata a quota 24 punti al settimo e ottavo posto di Venezia e della stessa Trento. Moritti e Tambone predicano nel deserto non aiutati dalle pessime prestazioni di Rachman e Kravic e da un dei fuori condizione. Trento resta avanti tutta una partita conclusa con Repescia a fare ammenda verso i tifosi per la brutta prestazione. Dalla WL alla Vispesero è Oscar Brevi a pagare per la piega disastrosa dei risultati dei Biancorossi. Il tecnico milanese è stato esonerato oggi a 30 ore dalla sconfitta per 3-0 a Gubbio in un match da bocciatura su tutta la linea che affossa la Vis mani e piedi dentro il play-out. La società Vispesero oggi ha fatto una breccia nel suo silenzio stampa per comunicare di aver affidato la guida tecnica della squadra a Simone Banchieri, tecnico con esperienze a Novare Prosesto. Il neoallenatore torinese troverà una Vis scivolata al quarto-ultimo posto a meno 5 dalla salvezza diretta quando mancano appena tre gare alla bandiera a scacchi della regular season. Nel giovedì prepasquale arriverà limolese al Benelli in un match delicatissimo per non rendere il finale di stagione ancor più disastroso. Perde anche il Fano in Serie D che al Mancini cade 0-1 nel derby con la Vigor Senigaglia, sempre più seconda in classifica. Nel calcio 5 arrivano tre punti che danno una boccata d'ossigeno all'Ital Service che al Palafiera batte 4-1 i sardi del Monastir. Accolta con calore dal pubblico peserese e riconoscente per il secondo posto in Coppa Italia, la squadra di Colini vince con merito aprendo le marcature con Pires, chiudendole con Toni Dandelle e in mezzo la doppietta di De Oliveira. Nella pallavolo il miglior set della stagione della Megabox non basta per battere Novara che al pala Carneroli passa 3-1 davanti al pubblico di Urbino più nutrito della stagione. Non riesce a tornare alla vittoria nemmeno la Fiorini-Pesaro-Regbe che con Avezzano si deve accontentare del solo punto di bonus defensivo. Sul campo dei Kiwi gli abruzzesi chiudono l'incontro 16-17. I pesaresi vedono sfumare il vantaggio guadagnato grazie a due calci piazzati nei primi 5 minuti della partita e si trovano costretti a rincorrere l'Avezzano che vince il match. Nel football americano dopo due vittorie arriva la prima sconfitta per i Ranocchi Angels che cedono a Roma nello scontro diretto lasciando la testa della classifica a eleggio tredicesima. I capitolini vincono 21-14.